preparazione prima della serie acrobatica che dalla rondata free flag doppio teso doppio avvitamento questo è un elemento di altissimo valore lei non sarà forse molto espressiva nella parte ginnica e nei collegamenti ma sulla acrobatica è veramente eccezionale ancora una fase dal free flag doppio teso un avvitamento stessa struttura ma con un avvitamento di meno parte in avanti salto smezzato rondata più flag è poi il collegamento di un doppio indietro flesso ancora velocità su alti flag su cara tutte le difficoltà per questa ragazza in questo esercizio a corpo libero e questo dovrebbe battere il 13 833 di jordan childs carmine è vero hai ragione non è particolarmente espressiva al corpo libero jade carey ma che difficoltà che diagonali acrobatiche